Ciao a tutti, benvenuti in un'altra MTG Peels dai vostri Medici of Lotus. Oggi parliamo della lore visto che Kamigawa sembra molto spicy. Allora Kamigawa è detta molto in breve, ovviamente sto schippando tante parti, ho messo in un breve recap per capire cosa succede. Allora, c'è stata ovviamente la guerra con i Kami, cioè gli spirit del posto. Questa è stata causata perché il Lord del Tempo, Lord Konda, aveva rubato la figlia del Dio Supremo, Ogakachi o come diavolo si pronuncia. Dopodiché riescono a risolvere la questione perché Michiko Konda riesce a restituire a Ogakachi la sua figlia, poi comunque lo uccidono stesso Ogakachi perché era impazzito e sta distruggendo tutto. Puniscono chi aveva rubato questa manifestazione dello spirito di Ogakachi, che era sua figlia. Dopodiché loro due si mettono assieme Michiko e Kiodai, che infatti è una carta che compare, la figlia di Ogakachi, e iniziano a governare il piano rendendolo pacifico. Dopodiché, grossissimo skip, il mondo degli spiriti e il mondo del terreno si stanno fondendo. Kamigawa è in data molto futuristica, alcuni spiriti non gli piace questa cosa che c'è questa tecnologia super avanzata, la vedono come una minaccia, allora sono ancora un po' stili. Altri invece l'hanno accettata e dicono besti cazzi e vivono tranquillamente con gli esseri umani e noi siamo su questo piano per vedere cosa succede perché l'attuale imperatore è sparito dopo che è arrivato un tizio con il braccio di metallo, chissà chi è, che l'ha fatto sparire. Detto questo, vedremo come si svolge la storia. Alla prossima! Grazie!